Aspè, aspè, aspè! No, aspè! Aspè, sto facendo un video sullo tsunami! Allora ragazzi, sto vedendo un bellissimo film, si chiama Austin, qualcosa di molto bello, questo squartamento, questi morti che ammassano, è proprio bello! Non potete vederlo, comunque ho capito dalla notizia che ci sta, questo tsunami che dovrebbe arrivare in Giappone, quindi speriamo di no, poverini, perché poi prenderà pure un'altra volta sta cazzo di centrale nucleare, Gesù Cristo, mamma mia, speriamo proprio di no. Quindi, questo è quello che vi volevo dire, praticamente, mettetemi un like, che sicuramente vi piacerà questo video, vai, sguarda, sguarda, mamma mia, mamma mia, mi ha tagliato la gola, la lingua. Babu, ciao ragazzi, se ci volevo dire, comunque è preoccupante questo fatto, deve arrivare questo tsunami in Giappone, speriamo tanto di no, speriamo che suonano le campane prima, dell'arrivo, ok, e niente, ciao ciao a tutti ragazzi, speriamo che non succede niente, merda, cazzo, cazzo, merda.